nel 2009 due anni prima che corrado formigli iniziasse una trasmissione apparentemente con lo stesso nome sulla sette iniziamo la produzione di una trasmissione che divenne un vero e proprio cal televisivo andava in onda in valeditea il nome era facciamo piazza pulita allora c'era ancora la tv analogica e bastava andare sul numero del proprio telecomando dove che si era sintonizzato appunto su quella televisione per poter guardare accedere direttamente la trasmissione facciamo piazza pulita è andata in onda per oltre cinque anni con grandi ascolti l'avvento della tv digitale purtroppo limitò di fatto le tv locali oggi come sapete per trovare il canale delle poche televisioni locali rimaste bisogna fare fatica viste le alte numerazioni tante hanno chiuso i battenti allora facciamo piazza politica allora parlava di fatti misfatti ma anche di costume furono centinaia gli ospiti alcuni molto autorevoli indimenticabili confronti televisivi oggi la televisione è cambiata i contenuti li vediamo soprattutto sui social e sono nate delle web tv come puglia press tv intanto voglio farvi vedere la sigla della seconda serie di facciamo piazza pulita con diversi conduttori inviati ospiti eccetera questa è andata alla metà del verso verso il 2015 2016 questa seconda serie allora mandiamo in onda appunto la sigla prego a mano a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore a mano a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza non c'erano soldi ma tanta speranza e a mano a mano mi perdi e ti perdo è quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte è sempre più vera e non come adesso nei sabato sera ma dammi la mano e torna vicino può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche all'inverno potrà mai gelare può crescere un fiore da questo mio amore per te bene avete visto avete visto appunto la sigla della seconda serie perché non vi ho fatto vedere quella della prima serie lo capirete tra poco intanto diciamo che la notizia è che abbiamo preparato la nuova serie di facciamo piazza pulita che andrà in onda dal precisamente 24 febbraio alle ore 18 in diretta su pugliapressa.tv andando sul vostro televisore potrete vederla su youtube sui social sui social su tutti i canali social come vi ho detto ormai noi la televisione i contenuti li vediamo sui social comunque andremo la manderemo la vedrete comunque sicuramente o sui social o in tv oppure sulla nostra web tv e allargheremo anche lo spettro con il portale puglia press il nostro portale giornalistico online puglia press che come sapete fa oltre 4 milioni di visualizzazioni annue allora siamo pronti avremo ogni sera tanti ospiti con la nuova ospiti in presenza perché gli ospiti saranno proprio nei nostri studi che stiamo ora allestendo stiamo sgombrando da cose che erano poste lì in tutti questi anni siamo pronti per riprenderli proprio in presenza con quattro ospiti a settimana rigorosamente vaccinati quindi si accederà con il green pass rinforzato quindi sarà obbligatorio questo chi condurrà questa trasmissione saremo io Paolo d'Arcangelo che ormai conoscete tutti e Salvatore Perillo la trasmissione sarà incentrata su due città Martina Franca e Taranto in quanto si vota sia Martina Franca che a Taranto nelle prossime comunali ci sono anche altri comuni ma noi ci concentreremo soprattutto su questi due Martina Franca e Taranto parleremo come al nostro solito senza bavagli ma saremo ospitali con tutti i nostri ospiti ai quali faremo le domande che fareste voi e che ci indicherete di fare nelle chat o precedentemente vi aiuteremo a capire e apprezzerete soprattutto chi non si sottrarrà al confronto perché magari può capitare che qualcuno con un po' di timore non accetti di venire in studio speriamo di no speriamo di averli tutti noi saremo leali e ospitali ancora facciamo piazza pulita sarete voi a dire di chi dobbiamo fare piazza pulita ecco magari con le domande e con le vostre opinioni capiremo le persone che magari meriteranno di amministrare le nostre città ripeto Martina Franca e Taranto in anteprima vi vogliamo far vedere la nuova sigla che poi non è nuova in quanto è la prima sigla che abbiamo rivisto e corretto che fu scritta realizzata e cantata da Renzo Rubino ancora Renzo non era andato a Sanremo era comunque già cantatore molto bravo e ci regalò questa bellissima sigla che ora vi propongo prego la riccia ma andiamo in onda per chi vorrebbe una piazza coperta per scaldare gli ambulanti per chi quel maledetto giorno d'agosto in ospedale ha scambiato la flevo con una sostanza letale e per chi scrive stronzate per chi le canta forzate per chi non avendo spiccioli per il parcheggio c'entra l'auto in piazza una multa al peggio facciamo piazza pulita delle solite facce piazza pulita di chi ci dona minacce facciamo piazza pulita e basta dire vabbè piazza pulita perché quando tornerà la stagione approderò sullo stragone per parlare di fatti di calcio e batti e quando spazzeremo la piazza mi innamorerò della stessa ragazza non sei più una bambina quando cresci mattina perché quando vendisco senza donne non si entra poi entro solo maschi ora perdo la pazienza vi spiego signori non è una discarica prima o poi qualcuno sbotta e poi di chi si sente onorevole e poi racconta le favole a chi si sente bello e non addormentato la nostra libertà hanno ignorato facciamo piazza pulita delle solite facce piazza pulita di chi ci dona minacce facciamo piazza pulita e basta dire vabbè piazza pulita perché quando tornerà la stagione approderò sullo stragone per parlare di fatti di calcio e batti e quando spazzeremo la piazza mi innamorerò della stessa ragazza non sei più una bambina ora cresci mattina e quando torneremo torneremo a pensare che una fetta di pane e un bicchiere di vino salsiano di più di un cellulare voglio arrombicarmi su un grullo e salire più su più su e gridare a tutti non se la faccio più ma manchia ma manchia persino di su youtube in televisione dappertutto vi diremo come anche perché ci sarà una grossa campagna pubblicitaria per la ripresa di questa nuova serie di facciamo piazza pulita e speriamo che siate in tanti a guardarci vi auguro una buona giornata arrivederci grazie grazie